In Italia due bambini su dieci sotto i dieci anni sono obesi o in sovrappeso. È un problema che sta assumendo dimensioni abbastanza rilevanti anche nel nostro paese che purtroppo si classifica una maglia nera tra i primi in Europa per bambini che sono obesi. Abbiamo cercato di approfondire questo argomento e di capire meglio come un genitore può capire se il suo bambino è solo paffutello o in sovrappeso o obeso con il nuovo presidente della SIO, la Società Italiana dell'Obesità, durante la nona edizione del Congresso Nazionale della SIO. Professor Santini, come un genitore può capire se il suo bambino è soltanto un po' più paffutello o in realtà c'è un problema di sovrappeso o di obesità? È veramente un problema molto importante. Tra l'altro i numeri che lei dice, se andiamo in certe regioni d'Italia, probabilmente sono anche superiori. Quindi quello dell'obesità infantile è una grossa preoccupazione per la nostra società, non tanto per quello che può succedere al momento in età pediatrica, ma perché l'obesità infantile è una condizione che predispone, porta, conduce, accompagna allo sviluppo dell'obesità nell'età adulta. E quanto più lunga la durata dell'obesità, quanto maggiore sono le conseguenze. Quando preoccuparsi? Dunque, se noi dovessimo ragionare in termini scientifici, esistono degli indicatori precisi con cui si può misurare l'indice di massa corporea e attraverso apposite tabelle stabilire se un bambino è normale, sovrappeso o obeso. Questo è un lavoro che può fare il pediatra, ma diciamo che con il buon senso un genitore facilmente si accorge se il bambino ha superato quelle che sono determinate misure, diciamo così. Una volta avere il bambino cicciottello era un qualche cosa che era ritenuto salute, oggi dobbiamo sapere che non è sempre così. E soprattutto, più che pensare a qual è il limite, soglia, oltre il quale non si debba andare, considerare le abitudini che questo bambino ha, come si alimenta, ma ancora di più come si muove. Consideriamo che oggi, per vari motivi, molti bambini fanno una vita assolutamente sedentaria, il che è innaturale. Il fatto di stare, di passare metà della giornata seduto sui banchi di scuola già di per sé non è del tutto naturale, ma ovviamente è indispensabile perché la cultura e le istruzioni sono fondamentali. Oggi però si eccede. Si eccede perché i genitori lavorano, si eccede perché non è più sicuro uscire fuori strada, si eccede perché non ci sono più occasioni per potersi muovere e quindi il bambino sta seduto a scuola, sta seduto a casa, sta praticamente, quello che è la natura del bimbo che lo dovrebbe portare a correre in continuazione è completamente repressa. Poi è un bambino obeso, tra l'altro è collegato a un adulto con altre patologie. Assolutamente, quindi è l'obesità infantile e il viatico per quello che sarà l'obesità in età adulta. e quindi ci dobbiamo sicuramente pensare. Il pediatra ci può aiutare per dire se la nostra è una preoccupazione reale o eccessiva. Laddove poi ci sono situazioni estreme, come purtroppo talvolta si vede, ci si può rivolgere a quelli che sono centri specialisti in questo senso.